Ben ritrovato a tutti, ecco la nuova puntata di questo mese, vogliamo innanzitutto ringraziare tutti i nostri clienti, il nostro pubblico, i nostri clienti in generale, abbiamo avuto un mese veramente eccezionale, siamo super felici, anzi il nostro problema adesso è, vi presentiamo un bel po' di orologi ma abbiamo un problema anche che dobbiamo ricomprare un po' di merce, quindi se avete dei boss orologi da fare delle permute, comprare o solo vendere, vi ricordiamo che noi nella nostra sede di Castellanzi, il mio Marconi 23, negozio storico ormai c'è da 74, abbiamo la gioieglieria Veneruz, abbiamo la crocchenza orologi, abbiamo anche il reparto borse, quindi vi aspettiamo e saremo lieti di farvi un servizio di consulenza. Sono qui con Mitico Daniele, adesso vi facciamo vedere un po' di prodotto, un po' di prodotti eccezionali, pezzo un po' insolito, non è dei nostri standard, però ci è arrivato, ci è piaciuto, l'abbiamo comprato, questo è un famoso Corum, un orologio prodotto tantissimi anni fa, la cosa particolare è che ha praticamente all'interno una moneta, i 20 dollari americani, bellissimo orologio, magari vi trovate in un momento di difficoltà, tirete fuori la moneta, la spendete, no scherzo chiaramente, è un orologio veramente particolare, bello, bello perché comunque con 5500 euro prendete un pezzo di storia dell'altro orologeria. Allora, vi mostro due orologi che sembrano molto ma molto diversi tra loro, ma hanno una storia che li accomuna, questo è un Porsche Design by Orfina e questo è un EVC Pilot, però qual è la loro storia? Questo Porsche Design è diventato famoso perché è un modello simile, non proprio questo, ma la cassa era uguale, il braccio era uguale, solo che era nero, era all'orologio usato da Tom Cruise in Top Gun il primo nel 1986. Invece questo, è sempre un EVC che ha collaborato anche con Porsche Design, è proprio la versione Pilot Top Gun che hanno dedicato alla sezione aeronautica dei piloti degli aerei supersonici dei caccia. E poi sempre sui loggi belli, aggressivi, sportivi. Ah caspita, facciamo il portodanno. Esatto, a quello ci pensiamo noi, siamo armati. Audemars Piggy Offshore, bellissimo, Survivor, un modello particolarissimo, con questi tasti che si aprono così di… Tipo grilletto. Tipo sicuramente abbondantemente sotto i vari listini. Mille pezzi al mondo. Mille pezzi al mondo. E poi è arrivato questa proprio mattina, bellissimo, Offshore, ceramica e oro rosa, tasti in ceramica e ghiere in ceramica, nuovo, mi ha indossato, guardate, è ancora tutto incapsulato nella plastica che dà lo De Marpighé quando si compra gli orologi. Il cliente l'ha comprato, l'ha comprato un nuovo nel 2022 come investimento, non l'ha mai messo perché comunque è abbastanza impegnativo. Se avete un polso importante e non venite a vederlo che è pazzesco. L'orologio che il listino ormai è circa 63 mila euro, ma non ve lo… non pensate ad andare in De Marpighé, che andate lì, lo ordinate e ve lo danno, non ve lo danno. E noi lo vendiamo a 65 mila euro, quindi appena sopra il listino, ma avete un orologio nuovo in pronta consegna. Andavanti un altro orologio che amo, il famosissimo Omega Speedmaster Moonwatch, il primo orologio è andato sulla luna. Questo è il classico orologio, icona, che dopo il Daytona, dopo il Sun Mariner, un uomo in collezione ha sempre uno Speedmaster Moonwatch, è sempre un orologio che performa perché ogni anno aumenta il listino. Ai tempi si compravano con 2.500 euro, 3.000 euro, adesso è un orologio che di listino fa 7.900 euro, la versione esalita come questa. E noi, completamente pellicolato, imballato come nuovo, con tutte le pellicole, lo proponiamo a 7.000 euro, quindi quasi 1.000 euro sotto il listino e l'orologio è nuovo. No, è nuovo tutto impacchettato. Ricordiamo poi che oltre agli orologi abbiamo anche dei pezzi bellissimi da donna, che su qualcosa facciamo vedere, ma abbiamo un grandissimo reparto di gioielleria, di orificeria, di cornici d'argento, quindi venite a trovarci, chiedete, dovete fare un regalo alla vostra moglie, siete qua per avere un orologio. A volte magari entrate non sapete neanche che io ho un reparto dedicato sotto alla gioielleria che poi è proprio quello storico che ha 50 anni. Quindi oltre a vendere abbiamo anche il reparto, come dicevo prima, riparazioni, compro oro, servizio 360 gradi. Avete la catenina rotta? Noi vi ripariamo la catenina, abbiamo il laboratorio interno, mandiamo la roba in giro. Volete incassare una pietra? Abbiamo l'incassatore interno, quindi venite a capire di cosa stiamo parlando, ma come dicevo una volta, com'era? vedere per credere, una roba simile. No, da parte degli schemi, venite a trovarci che capite di cosa veramente siamo capaci di fare, di soddisfare tutte le vostre esigenze. Allora ti riferisco un proposito di donne, ho visto che parlavamo delle nostre signore, Eau de Marpillier, 37 mm, è in oro bianco 18 carati, configurazione frosted, magari in televisione si fa fatica a vedere, ma ha questo oro lavorato, questo oro bianco lavorato, che sembra un po' l'effetto ghiaccio, è in edizione limitata, non è più in produzione, ce ne sono pochissime in vendita al mondo, noi siamo tre pochi da avere, l'orogio è nuovo, scatola garanzia, 69 mila euro, ma anche qui li trattiamo veramente super bene. Può metterlo anche un uomo col posto piccolo, perché comunque è un 37 mm, volendo può metterlo. 41 mm di referenza, 15-500, fuori produzione, 40 antracite, che è uno dei colori più belli, perché il 40 antracite è veramente pazzesco. Ripeto, ormai si compro cifre giuste, corrette, questo oggi noi possiamo proporre a 38 mila euro, oggi nel 2019 fu set come nuovo. proseguiamo con due pezzi vintage super chic, i famosi Patek Philippe Ellipse, abbiamo la versione maschile, che è la versione grande, lo chiamavano jumbo, con un quadrante blu che si abbina all'oro giallo in una maniera pazzesca, di un'eleganza unica, anche la maglia del bracciale, l'ha visto dal vivo, davvero sembra un guanto quando lo indossate, e poi quest'altro bellissimo, da donna, con quadranti nonice, in pietra dura, cioè nero, anche questo, sono cose da vedere dal vivo perché sono bellissime, sono oggetti d'arte secondo me. E poi hanno dei prezzi formidabili. E poi hanno dei prezzi formidabili, con 10.500 euro si porta a casa, si porta sul polso, non a casa, la storia di Patek Philippe. E questo qui da donna, anche questo lo proponiamo a 7,5, sono tutti e due provisti di scatola originale dell'epoca, anche questo non è poco. Mi raggancio all'oro nobile, quindi ho questo oro rosa, altro pezzo bellissimo di odio marpighier, 41 mm, millimetri quadrante nero, cinturino in cocodilo nero, chiusura deployante, orologio del 2014, lo vendiamo praticamente a listino, se andate a comprare questo oggio qua in negozio, in concessionaria, lo pagate a listino, ma non ve lo danno, vi fanno aspettare 3-4 anni, magari 5, quindi lo comprate a listino, costa 49.000 euro di listino, erano fuori un po' più alti, ma vi facciamo un prezzo direi ottimo, e avete un orologio di altissima, è uno dei marchi più importanti al mondo, mai innegabile, o da una piche, insieme a tante altre marchi, siamo all'Olimpo dell'altissimo orologeria mondiale. Vai, in contemporanea, vai tu Dani. Abbiamo qua un bellissimo Aquanaut, anche questo se non sbaglio è il nuovo Mirko questo? No, no, è un secondo posto, ma praticamente usato pochissimo. E qui abbiamo un 24 in oro bianco, completamente in oro bianco, due orologi bellissimi da donna, eleganti, questo è la versione praticamente da donna dell'Aquanaut, e invece questo è il 24, scatto la garanzia, lo proponiamo a 22.000 euro del 2004. Comprate un 24 di Patek, oro bianco, diamanti originale, al prezzo di un acciaio, noi ve lo diamo in oro bianco, quindi con 22.000 euro comprate un orologio veramente di un'eleganza da donna, magari non è un orologio chiaramente da ragazza, ragazzina, può anche metterlo, però una signora di classe di un certo tipo, con un orologio così, è veramente... Poi si riesce fuori dai soliti schemi. Dai soliti schemi, sì, veramente stupendo. Come dicevamo prima, oltre a Patek, Rolodemar, abbiamo anche dei marchi particolari, abbiamo questo, beh, è un giraperegonio oro rosa, lo vendiamo molto molto sotto il listino, siamo intorno ai 25.000 euro, scatola garanzia, è un lingotto d'oro rosa, e poi abbiamo dei pezzi particolari, quindi non solo Rolex, come dicevo prima, abbiamo IVC, portoghese, riserva di carica, abbiamo il Leonardo da Vinci, con questa forma particolarissima, altro orologio storico di IVC, siamo a 7.000 euro, questo capolavoro dell'alterologeria a 7.000 euro, non compriamo neanche niente, compriamo, e questo qui, riserva di carica, 6.200 euro, altro orologio veramente bellissimo, una cifra ragionevole. Vai Dani, vai tu. Vi faccio vedere un altro brand che fa parte veramente dell'Olimpo, dell'orologeria, Vacheron Constantin, abbiamo questo Overseas, Ore del Mondo, che Vacheron insieme alla Patek Philippe è stata la prima maison a creare questa complicazione delle Ore del Mondo, nel quadrante si può leggere praticamente qualsiasi ora del fuso orare mondiale, anche questo nuovo, completamente pellicolato, siamo molto sotto i listini, penso che siamo tra i primi prezzi Europa, o forse oso dire anche mondo, lo proponiamo a 35.000 euro, bellissimo. Vai. Proseguiamo con un'altra icona dell'orologeria, che mi sta molto a cuore. I Gégé Lecoultre, o Jäger Lecoultre, dipende come lo si vuole pronunciare, svizzera, tedesco, francese. Questo qui è il Reverso Duo Face Tribute, che è praticamente la versione aggiornata con le sfere più moderne rispetto al classico Reverso. La sua particolarità è la cassa basculante, vedete, si ribalta su se stesso, era stato creato per i giocatori di polo per proteggere il quadrante, ma in questo caso è la versione Duo Face, quindi Night and Day, chiara e scura, e praticamente con 12.000 euro, come se si portasse a casa due orologi, il bianco e il blu. Castelanzi, il Marconi23, abbiamo tantissimi gioielli, abbiamo i nostri incassatori, le nostre commesse, abbiamo Daniele che è qua vicino a me oggi, abbiamo mio cugino Luca, anche lui grandissimo professionista, abbiamo Angelo Orologiaio, tutti i nostri dipendenti, abbiamo diversi dipendenti. Venite a trovarci, veramente, ripeto, gioielli, orologi, borse, laboratorio di orologeria, laboratorio di orificeria, consulenze gratuite, stime, avete un'eredità, dovete dividere tra fratelli, l'eredità vi aiutiamo anche in quello, vi diciamo i valori dei vostri gioielli, dei vostri orologi, del vostro oro, ve lo facciamo anche a titolo gratuito, poi avete delle cose che volete vendere, ve le compriamo, portate qua i vostri orologi, ve li valutiamo, magari pensate a aver caso una cosa o niente, invece vale magari decine, migliaia di euro, quindi passate qui, fate un giro, vedete che vi troverete veramente super super bene, quindi ringraziamo lo staff della Rosi, i nostri ragazzi qua davanti assisti per tutta la trasmissione, la Rosi che ci aiuta sempre, ringraziamo i nostri clienti soprattutto, devo dire abbiamo acquisito i clienti eccezionali, quindi vi aspettiamo a Via Marconi 23 Castellanza e un saluto a tutti, grazie Daniele, grazie a tutti, ciao ciao, a presto.